Aiutami a rialzarmi! Abbiamo accusato il colpo, ma siamo ancora forti. Alla prossima! 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 Un attimo, ricarico! Un attimo, ricarico! Craculatemi! Un attimo! Un attimo! Ricarico! Stai medis! Stai medis! Ricarico! Vi invito fure medis! Möi дела proche! Rendi un po' di proiettili! Rendi un po' di proiettili! Rendi un po' di proiettili! Ricarico l'alba! Rendi un po' di proiettili! 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 Errata! Aiutami a rialzarmi! Aiutami a rialzarmi! Aiutami a rialzarmi! Aiutami a rialzarmi! Voi la voglia di usare! Ehi sì, è un luogo di... Grazie a tutti! Settio a Charlie 1 iniziato. Ti resta metà delle risorse. Gli alleati stanno catturando Charlie 1. Settio a Charlie 1 iniziato. 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 Siamo in opzion! Prattivnichi vincere! Vincere l'attacco a Charlie 2! Nemico eliminato! Vincere l'attacco a Charlie 2! Vincere l'attacco! Non approfondi! Vincere l'attacco! Vincere l'attacco! Beccatevi questa, merda! Don't put me! C'è un nemico! Lancia una granata! Agli stridenti nella terra! È una punta ferita! Gli americani attaccano uno dei nostri obiettivi! Abbiamo allontanato il nemico da tutti gli obiettivi! Settore in sicurezza! Ho scottuto un nemico! Sto ricaricando! Sto ricaricando! Aiutami a rialzarmi! Rimettimi in piedi! Aiuto! Aiutami a rialzarmi! Rimettimi in piedi! Vincere l'attacco! Questo è l'ultimo settore! Possiamo sconfiggerli qui! Dobbiamo! Vincere l'attacco! Vincere l'attacco! Non ringrazi ancora! Corretta domuzione pronta! No, no, no. Aiutami a rientrare in azione! NAMASTE 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gli americani si disperdono. Abbiamo vinto. Bisogna goderseli certi momenti. Oh, scusate. Sono sorpreso quanto vuoi. Sì la jest. Ciao. 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 Ciao.